Ok, tutto pronto. Argentina, ma perché oggi ho tutta questa fretta? Oh, perché dobbiamo risolvere un caso. Ora vado. Ma il tuo frappè lo berrò per strada. Va bene, allora ciao. Chissà qual è il caso. Forse mi sbrigo anch'io, eh. Tanto ho finito il frappè. Eccomi. Alex, ci sei per risolvere il caso? Certo, sono pronta per risolvere il caso. Già gli occhiali, perché tu non li hai ancora? Oh, non sapevo se fosse già pronto. Beh, allora li metto. Bene, eccomi, sono pronta. Andiamo a interrogare Sara. Ma tu dici che ci dirà la verità? Sì. Argentina? Cosa c'è? Devo risolvere un caso importante. Prima a casa ti ho sentito che parlavi di un caso importante. E riguarda Sara. Sì. Di cosa ti tratta? Oh, non so se posso dirtelo. Prima ne parliamo con lei. E poi se siamo sicuri te lo dirò, ok? Promesso. L'hai poi promesso, eh. Vado in classe. Bene, andiamo. Ciao, Sara. Ciao, ciao. Ciao, ora scusatemi, ma devo andare a Motoria. No, 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 no. Dobbiamo farti un interrogatorio. Motoria mancano ancora 15 minuti ed è più che sufficiente per interrogarti. Va bene, ma facciamo veloce. Che cosa volete sapere? Allora, noi vogliamo sapere perché hai aiutato la giornalaia. Subito, all'istante. Già, e sarà meglio che non menti. Ma io... Va bene. Oh, va bene allora. E non provare a mentirci, eh. Insomma, sono tua cugina e lui è un po' un tuo amico. Come hai usato scrivere i nostri segreti? Allora, calmatevi. Qui la cosa è diversa. Il giornale della scuola è nato, non so, un po' più di un mese fa. Io non l'ho aiutata da lì in poi. Lo sto facendo solo da qualche giorno, ok? Ah, ok. Allora è diverso. E chi ci dice che tu stia dicendo la verità? La mia firma c'è solo da qualche giorno. L'hai aiutato anche te? Oh, è vero. Beh, ok. E perché hai deciso di farlo? Non è... Insomma, è agghiacciante, è cattivo. Già non mi piace lei che scrive dei nostri segreti. Figura se mi piace che lo fa mia cugina. Dai. È da cattivi. Appunto. Però prima che ci rispondi, tu volevi chiesti se sapessi che fosti tu? All'inizio volevo no. Però dopo qualche giorno ho detto, ma cosa c'è di male? Anche loro lo sanno. Comunque ho citato perché è bello. E almeno perché lei, il giornale, lei le arrivano molte, molte notizie soffiate. E lei ne pubblica solo qualcune. Io aiutandola le scopro tutte. E molte sono pesanti, infatti sono ancora depressa. Riguardanti noi? Certi sì, altre anche due mie amiche. Perché cioè, io sono... Sto con te, ma anche se c'è mia amica, sei mia cugina. Sì, sì, ho capito. E poi è bello. Perché non provate ad aiutarci per qualche giorno? Così potreste capire. Non vi mentirei mai. Sono mentito sul fatto che così è più misterioso. Poi è stata lei a suggerirmelo. Però sei stata ad accettare. Ottima ribattuta. Ok, accettiamo di aiutarti qualche giorno. Va bene, allora ci vediamo domani. Tu credi davvero che sia bello? Ma se no non ci sarebbe messo a farlo. E neanche lo giornalò io. Ora vado a domani. Sì, ma ci vedremo ancora di oggi, eh. Comunque devo andare, sono io ridardo. Il giorno dopo. Eccomi. Ebbene, sono arrivata. Allora possiamo andare dalla giornalaia e Sara? Certo, andiamo. Perché stanno entrando nell'alba della giornalaia? Bella domanda. Andiamo a spigli. Stavo già pensando di farlo. Sì, e poi... Oh, beh, ciao ragazzi, siete arrivate. Bene, allora andiamo nell'ufficio. Sì, questa cosa in effetti mi incuriosisce. Un curiosisci un po'. Cosa vogliono aiutare? Non ne siamo sicuri. Ma se no perché entrerebbe? Beh, in effetti. Un'ora e mezza dopo. È stato super interessante. Oh, sono arrivate una montagna di notizie. Ma a gran parte non le pubblichiamo, perché? Beh, le conserviamo già per il giornale della settimana prossima e poi certe sono... Non lo so... È difficile, bisogna lavorarci un po'. Vedete che è bello, è per questo che lo fa. Sì, sì. Però dite che dovremmo pubblicare sul giornale, che siamo noi tre ad aiutare lei. Direi di no, così è più bello e misterioso. Hai ragione. Comunque volevamo scusarci se ti abbiamo scambiato per una traditrice. In effetti è bello. Potrai mai perdonarci? Ma certo, anch'io se non l'avrei saputo avrei ragionato così. Per farci perdonare oggi venite tutti a pranzo da noi. Ok? Certo. Allora ci si vede oggi? Ora devo fare scienze. Io vado in inglese. Darei te i giornali alla gente? Sì, sì, ce la faccio. Bene, allora ci vediamo poi. Certo. A pranzo? Oh ragazzi, sono così felice che siete venuti tutti a pranzo da noi. Era un po' che non lo facevamo. Noi non potremmo mai rifiutare. Oh, i pranzi sono sempre squisiti. Già me li ricordo perfettamente. Eccomi, ho finito in bagno. Ma cosa succede qua? Oh, se non ti dispiace, ho invitato Alex e Sara a pranzo. Che bello, evviva! Oh, bene, non gli dispiace. Certo, nostra cugina è una vita che non la vediamo. E beh, anche con Alex non l'ho più fatto. Bene, pensi che questo possa essere il momento giusto per darvi una notizia bomba. Va bene, dica pure. Già mi ha messo una cosiddetta enorme. Dai, spara! Stamattina hanno dato il telegiornale. Ci sono state delle notizie un po' più estive, no? Oh, le notizie estive sono le mie preferite. Già, mi incuriosiscono sempre. E poi io sono nuova, voglio sapere tutto di quest'estate. Ah, va bene, allora dico. Questa notizia l'ha detta il comune e la repubblica lì con la sindaca. Allora, come sapete, nella città alta c'è una mega piscina super lussuosa e decorata, enorme. E loro non ci lasciano andare. Ah, hanno deciso di distruggerla. No, quello era un po' cattivello. Hanno deciso, anzi i lavori li hanno già iniziati, di fare una piscina fantastica solo per la città bassa. No, che bella notizia! Mi è andato di traverso il frappè per la felicità. Evviva! E sarà aperta solo a noi. Beh, volevano aprirla anche la città alta. Ma tanto è una cosa molto semplice. A loro non sarebbe piaciuta, quindi hanno messo il divieto, ma tanto non vengono. Quindi è pubblica, è viva, è una città sensazionale. Cioè, non è che c'è solo la piscina e basta. Cioè, ci sarà anche tipo una scaletta, c'è lo scivolo, la palla, il salvagente pubblico. E lì vicino hanno piantato delle palme che, cioè, ora sono piccole, cresceranno. Un ombrellone, anche un barbecue e degli sdrai con un tavolino. Ci saranno i camerieri della pasticceria. Oh, wow, è fantastico! Già, cioè, la giornata era già migliorata, ma ora l'hai migliorata di più. Sì, festeggiamo per l'arrivo dell'estate con una bella torta gelato. Vado a prenderla. Iuppi! Anche voi, trovate che sia una bella idea la piscina. Già, e quest'estate la vedrete, ci andremo tutti i giorni, è pubblica. Già, io ho un cubustume fantastico. Dai, ora finiamo il pranzo. Aloha! Iscrivetevi per essere sempre aggiornato sui nostri episodi. Commenta come vuoi e metti un like se ti piace. Tone l'episodio. E poi se ci piacciono la piscina. Diremo se l'abbiamo comprata, costruita noi o un po' di tutti, entrambi. Eccomi con la torta gelata. Ecco qui. Ciao!